Passate! Eccolo! Eccolo gol! Gol 3 a 2 Daie così Tutto a posto Senti bene che hai fatto? C'è un cavolo di azione per le team Qual è il problema? Quanti minuti Non ho fallito bene C'è pure umidità in campo E mi è venuta pure un po' fame Mi è venuta pure un po' fame Daie, ma che fame Gioca, mancano solo 15 partite Perché mi se ne era Daie Lasciamo perdere questo Non mi faccio affamare Ma che ti vado affatto a mannare Che c'è sta niente dentro il frigo Ma come c'è niente nel frigo? C'è un pezzo di pizza Un pezzo di pane Un pezzo di cazzo Sandro Grazie a tutti Faccio il miracolo Faccio a fare sto miracolo Oh Sandrone prepara C'è piatto Oh Sandrone prepara C'è piatto Oh Sandrone prepara C'è piatto Oh Sandrone Oh Sandrone prepara Oh Sandrone prepara Oh Sandrone prepara E' pronto è pronto io vado a mangiare dai vedi che il miracolo la fine ce l'ha fatto davvero sa è veramente buono ma come ho fatto questo polletto è molto lo dico io come ho fatto prendi il pollo, sbatti il pollo sul tagliere fallo a metà, butta le ossa, taglialo a pezzi dai, pian piatto, mettici alla farina buttaci al pollo, piana pentola, metteci al latte pier gorgonzola, schiaffaci allo dentro sciogli, 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 dai, pie radicchio spaccalo a metà, taglialo, ricostruiscilo dai, piana padella, metteci un goccio d'acqua buttaci al radicchio, no sale, no olio, no parte padellone sul fuoco, buttaci al pollo aggiusta di sale, olio, smuovi il radicchio gira la crema, sino si attaccano, butta la crema nel radicchio, butta il radicchio corgonzolato nel pollo, mischia tutto, dai, pie il piatto metteci le foglie di radicchio, metteci al pollo filo d'olio, due semi di sesamo, fine, dai hai capito? ce l'ho del cazzo è semplice, è semplice, è semplice, è una cazzalissima però continuiamo a mangiare perché beva l'ossa, raga la salute la salute, la salute comunque, a cola cola, poi li diamo il pollo meradicchio, preciso, devo dire che ci sta molto bene, si si, buono, buono grazie a tutti